Non voleva lasciare la questura di Vibo Valenza dopo il suo repentino trasferimento a Roma senza un ultimo segno tangibile. E così il questore Andrea Grassi ha presentato la carta dei servizi dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Vibo Valenza, uno strumento utile per tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno a che fare con gli uffici di Via Santaloi. Un'applicazione semplice alla quale si può accedere attraverso il computer, il tablet e il cellulare, che ha lo scopo di semplificare i rapporti con i cittadini, esponendo e spiegando le attività di servizi svolti messe a disposizione dalla Polizia di Stato e dalla questura in particolare. La consultazione online contiene collegamenti ipertestuali che con un semplice clic consentono di visualizzare le pagine di approfondimento sugli argomenti e la modulistica necessaria per le diverse istanze che una volta compilati dovranno essere consegnate agli uffici. Un servizio, abbiamo detto, che proprio il questore ha voluto che si concretizzasse prima della sua partenza, previsa fra due giorni. Il capo della Polizia mi ha chiesto un passo indietro, ha detto Andrea Grassi durante un breve incontro con i giornalisti. Io per il bene dell'istituzione ne faccio tre. Al suo posto arriverà Nino Gargano, attualmente in servizio presso l'ufficio centrale ispettivo della Polizia di Stato, ma con precedenti operativi a capo delle questure immobili di Bari e di Genova.